In assenza del padre, Eugény godé la nuova felicità di poter prestare apertamente le sue cure al cugino di letto e di effondere su lui senza apprezzione la sublime pietà che nell'anima chiudeva. Tre o quattro volte, per udirne il respiro ed assicurarsi che dormisse o fosse desto, si recò ad origliare all'uscio. Poi, quando si fu levato, si dette sollecita a preparare la crema, il caffè, le uova, le frutta, i piatti, il bicchiere e tutto l'occorrente per la colazione. Salì poi in fretta la scala per ascoltare i rumori del cugino, si vestiva, piangeva ancora, si avvicinò alla porta. Cugino mio! Cugina? Preferite far colazione in sala o nella vostra camera? Dove vi piace? Come state? Oh, cugina cara, mi vergogno di aver fame. Quella conversazione attraverso l'uscio sembrava a Eugény un vero episodio di romanzo. Benissimo, apparchieremo in camera per non contrariare mio padre. E scese in cucina, leggera come un uccello. Su una non presto, va a mettere in ordine la stanza. Quella scala, così sovente salita, discesa, checcheggiava al minimo rumore, pareva alla fanciulla che avesse perduto il suo carattere di vetustà. Ella la vedeva luminosa, le pareva che favellasse, che fosse giovane al par di lei, giovane come il suo cuore, cui essa ora serviva. Anche la mamma buona ed indulgente volle secondare i suoi desideri, e non appena la camera di Charles fu in ordine, venne con la figlia a far compagnia allo sventurato. Non era forse carità cristiana il recargli conforto? Ed appunto nella religione le due donne trovarono parecchi piccoli sofismi per scusare il loro modo di comportarsi. Charles Grandet fu quindi oggetto di cure affettuosissime, e il suo cuore, affranto, sentì più forte la dolcezza di quella tenera amicizia, di quella simpatia squisita che le due anime sempre chiuse, seppero spiegare trovandosi libere un momento nella loro sfera, la regione delle sofferenze. Per quella familiarità che la parentela le consentiva, Eugénie poteva subito occuparsi a rassettare la biancheria, a mettere in ordine gli oggetti di toeletta che suo cugino s'era portati, e poteva ammirare a suo agio i ninnoli di lusso, i gingili d'argento e d'oro cesellato che le capitavano sotto mano, e che ella godeva di toccare lungamente sotto pretesto di esaminarli. Al vivo e generoso interesse della zia e della cugina, una profonda commozione vinse il giovane, pensando come a Parigi, nell'attuale suo stato, si sarebbe visto innanzi solo visigelidi o indifferenti. La fanciulla gli apparve allora fulgida di una speciale bellezza, e fu costretto ad inchinarsi di fronte a quella soave semplicità di costumi che la sera avanti aveva schernito. Sicché quando la prese dalle mani della domestica la tazza di maiolica piena di caffè alla crema, offrendola con la grazia ingenua dell'affetto, il parigino ebbe le lacrime agli occhi, e non poté trattenersi dallo stringerle la mano e baciargliela. «Ma via, che avete ancora?» chiese lei. «Oh, nulla, sono lacrime di gratitudine», rispose. Eugénie si voltò verso il caminetto a togliere i candelieri. «Prendi, Nanon, porta via!» Quando rischiò di posare nuovamente gli occhi sul cugino, era ancora molto rossa, ma riuscì a dissimulare nello sguardo l'immensa gioia che le invedeva, un sentimento identico parve accenderli entrambi e le anime loro fondersi in un sol pensiero, l'avvenire. Quella dolce emozione nel gravissimo dolore fu per Charles tanto più preziosa quanto meno attesa, ma un colpo di battente richiamò le due donne ai posti soliti. Per fortuna, esse fecero in tempo a discendere e trovarsi al lavoro mentre Grande entrava. Se egli le avesse incontrate nel corridoio sarebbe bastato per citare i suoi sospetti. Dopo la colazione, di cui il vecchio si sbrigò alla lesta, giunse da Foifont il guardaboschi, che non aveva mai ricevuto l'indennità promessa, e portò una lepre, alcune pernici uccise nel parco, delle anguille e due lucci dovuti dai mugnai. «Oh, oh, questo povero corno aie! Giunge come il cacio sui maccheroni! È buona da mangiare quella roba lì?» «Sì, caro e generoso signore, è cacciata da due giorni!» «No, no, prendi tutto la svelta e serbalo per desinare. Ho invitato i due cruciaux!» La domestica spalancò tanto d'occhi, guardando sospesa all'intorno. «Ma... e il lardo e le spezie?» «Moglie!» disse Grande, «dalle sei franchi ricordami di scendere in cantina a prendere del vino buono!» E così, signor Grande, riprese il guardaboschi ricominciando il discorso accuratamente preparato allo scopo di risolvere la questione del salario, «Signor Grande... ta 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 ta... interruppe l'altro, so quello che vuoi, ma ne parleremo domani, che oggi son troppo occupato!» «Moglie, regalagli cinque franchi!» E scappò via, mentre la povera donna si sentiva abbastanza lieta di mettersi in pace con undici franchi. Ella sapeva che il marito avrebbe taciuto almeno per quindici giorni, dopo aver ripreso a quel modo, un po' per volta, il denaro che le aveva dato. «Prendi, Cornoyer!» disse lei nel fargli scivolare in mano dieci franchi. «Vedremo di compensare in seguito i tuoi servigi!» Il guardaboschi non rispose e si congedò. «Signora!» osservò la domestica disponendosi ad uscire con la cuffia nera in testa e la sporta al braccio. «A me occorrono solo tre franchi, il resto tenetelo e tutto andrà a dovere!» «Prepara un buon pranzo, Nanò!» disse Eugenie, «perché anche mio cugino scenderà!» «Bisogna proprio credere che qualcosa di straordinario stia per accadere!» rifletteva la signora Grandè. «È la terza volta in tutto il tempo del nostro matrimonio che tuo padre invita a pranzo qualcuno!» Verso le quattro, mentre Eugenie e la madre finivano di apparecchiare la tavola per sei persone e il padrone di casa recava su alcune bottiglie di quel vino squisito che con tanta cura conservano i provinciali, Charles entrò in sala pallido e dimesso con un'aria di graziosa tristezza nello sguardo e nella voce. Non fingeva il dolore, soffriva davvero e quell'ombra di mestizia che inoscurava il viso lo rendeva più accetto alla fanciulla. Forse anche la sventura li aveva maggiormente avvicinati ed infatti non si trattava ora del ricco e bel giovane posto in un grado così elevato cui ella non ardiva nemmeno a spirare, ma di un parente infelice caduto in orribile miseria. La miseria produce l'eguaglianza. Questo ha la donna di comune con l'angelo. Gli afflitti in lei trovano rifugio. Charles e Eugenie si parlarono e si compresero soltanto con gli occhi perché il povero orfano si sedette tacito, calmo e fiero in un angolo e là di quando in quando veniva ad accarezzarlo, soave e luminoso, lo sguardo della cugina, spingendolo a mettere da parte i pensieri tristi e a lanciarsi con lei per i campi della speranza e dell'avvenire. La città intanto era tutta sottosopra per quel pranzo di grande Aicruccio più che non lo fosse stata il giorno avanti per il tradimento commesso con la vendita del raccolto in barba agli altri proprietari di vigne, ma egli poco si curava di saumur della quale si prendeva gioco. I de Grassen conobbero in breve il suicidio del padre di Charles e risolvettero di recarsi la sera stessa dal loro cliente per condolersi con lui ed appurare i motivi che in tale circostanza lo avevano indotto ad invitare a pranzo i Criccio. Alle cinque precise comparvero il presidente de Bonfant e lo zio Notaio azzimati di tutto punto e fu subito servito il desinare cui fecero abbastanza onore. Grandè era serio, Charles taciturno, Eugénie muta addirittura e la madre non parlò più del consueto. Quel pranzo poteva proprio dirsi di condoglianza. A levar della mensa il giovane si rivolse agli zii. Vogliate permettere che io mi ritiri. Debo attendere a una lunga e triste corrispondenza. Accomodatevi pure, nipote. E quando il vecchio calcolò che Charles fosse occupato a scrivere e non potesse udire nulla di quanto si sarebbe detto volse alla moglie uno sguardo di dissimulata furberia. Quello di cui parleremo, signora Grandevi, sembrerebbe latino addirittura ed essendo già le sette e mezzo non fareste male a chiudervi nelle vostre lenzuola. Buonanotte, figliuola. Dopo che gli ebbe abbracciato Eugénie, le due donne uscirono e cominciò la scena in cui papà Grande mise in opera la suprema astuzia acquistata nel lungo commercio con gli uomini per cui spesso coloro che si sentivano il morso troppo rude sulla pelle lo chiamavano vecchio cane. Se più alte fossero state le mire dell'ex sindaco di Saumur e favorevoli circostanze lo avessero spinto nei gradi superiori della società fino a portarlo nel congressi che decidono le sorti delle nazioni, certo il genio particolare con cui regolava il suo interesse individuale sarebbe divenuto gloriosamente utile alla Francia. Ma avrebbe pur potuto accadere che fuori di Saumur egli si fosse trovato inetto poiché non di rado succede agli spiriti come ad alcune specie di animali che non più prolificano quando sono tolti dall'ambiente in cui nacquero. Sì, sì, signor pre-presidente voi di-di-cevate che il fallimento La balbuzie da un pezzo affettata con tanta naturalezza insieme con la sordità di cui si lagnava nei giorni umidi e piovosi divenne in questo caso un vero martirio per i due Cruchot i quali, nell'ascoltarlo, facevano loro malgrado smorfie curiose quasi avessero voluto aiutarlo a compiere le parole in cui si inceppava ad ogni piesso spinto. Sarà forse bene dir qui la storia della balbuzie e della sordità di Grandè. Nessuno in tutto l'Angio, meglio dello scaltro Vignarolo comprendeva e pronunziava il dialetto angioino una volta, malgrado tutta la sua scaltrezza era rimasto vittima ad un ebreo che durante la discussione applicava la mano all'orecchio a guisa di cornetto acustico sotto il pretesto di non capire e tentennava così bene alla ricerca delle parole che Grandè, cedendo a un impeto di umanità si credette in obbligo di suggerire a quel maligno israelita le idee e le espressioni che gli pareva che cercasse di finirne i ragionamenti di parlare come avrebbe dovuto quel dannato ebreo di essere, insomma, l'ebreo e non Grandè. Da quella bizzarra lotta uscì concluso l'unico contratto di cui Grandè avesse avuto a pentirsi in vita sua ma se dal lato pecuniario egli ci perdette molto guadagnò moralmente e raccolse in seguito il frutto della lezione avuta tanto che finì per benedire l'ebreo il quale gli aveva insegnato il modo di stancare l'avversario commerciale facendogli perdere il filo del proprio pensiero e portandolo man mano ad esprimere quello di lui. Ora la faccenda che voleva trattare richiedeva specialmente l'uso della sordità della balbuzie e delle oscure circunlocuzioni in cui il vecchio solleva avvolgere le proprie idee già che non solo in tal modo riusciva a schivarne la responsabilità ma restava padrone della sua parola e dei suoi veri scopi signor di Bonfon era la seconda volta in tre anni che gli chiamava così Crochot nipote sicché questi si lusingò ad essere scelto per genero voi dunque dicevate che i fallimenti si possono in certi casi impedire dagli stessi tribunali di commercio e lo vediamo ogni giorno interruppe il signor de Bonfon continuando il pensiero di Grandet credendo di indovinarlo e facendosi sollecito a darne la spiegazione sentite sento rispose umile il buon uomo con la serietà maliziosa del fanciullo che ride entro di sé del professore nel punto stesso in cui sembra gli presti la massima attenzione quando un uomo stimabile e stimato come per esempio era il defunto vostro signor fratello a Parigi mio fratello si trova sotto la minaccia di una bancarotta si chiama dunque bancarotta appunto e com'è inevitabile il fallimento può il tribunale di commercio competente ascoltatemi bene con una sentenza nominare dei liquidatori della sua ditta e liquidare è ben diverso dal fallimento capite? il fallimento disonora ma con la liquidazione si rimane uomini onesti è di diverso assai se non costa più caro ma non è difficile promuovere una liquidazione senza ricorrere al tribunale poiché continuava il presidente annusando una presa di tabacco in che modo si dichiara un fallimento? si io non ho mai pensato rispose grande o in seguito al deposito del bilancio debitamente registrato che fa nella cancelleria del tribunale il negoziante stesso o il suo procuratore oppure sulla istanza dei creditori ma se il commerciante non deposita il suo bilancio e i creditori non chiedono la sentenza dichiarativa del fallimento che accade? si vediamo accade che la famiglia del defunto i suoi rappresentanti i suoi redi o anche il commerciante se non è morto o gli amici se si è nascosto iniziano la liquidazione vorreste forse liquidare voi gli affari di vostro fratello? ah grande esclama il notaio fatelo e dimostrate che vi è sentimento d'onore in fondo alle nostre province se riusciste a salvare il vostro nome giacché è proprio il nome vostro sareste un uomo sublime concluse il presidente interrompendo lo zio certo rispose il vecchio mio mio fratello si chiamava grande proprio come me e certo e non dico io di no e questa liquidazione potrebbe sotto ogni rapporto essere utile agli interessi di mio nipote di cui voglio bene ma bisogna riflettere non conosco mica la gente furba di Parigi sono nato a Sossomur io vedete mi occupo solo di propagini e di fossati non ho mai sottoscritto una cambiale cos'è una cambiale ricordo d'averne ricevuto molte ma non ne ho firmate ma mai la si riscuote si si sconta ecco tutto quel che ne so se senti dire che si può possono ricomprare le cambiali si disse boffon si acquistano in piazza le cambiali mediante il tanto per cento mi capite grande applicò la mano all'orecchio a guisa di cornetto e il presidente gli ripete la frase dunque rispose il vignarolo vè vè da guadagnare in tutto questo o non ne so nulla io al la mia età di cose simili a me to toccare restare qui a ve ve vegliare sul grano poiché il grano si ammucchia e col grano si pa paga il raccolto innanzitutto ho ma maggiori faccende a a frafond e non mi conviene la lasciar per casa per imbro bro 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 gli armi con gente indemoniata e con quello di cui non non capisco un'acca dicevate che per liquidare essendo il fallimento bisognerebbe essere a parigi ma come si fa a trovarsi in due luoghi a un tempo a meno che non si sia un uccellino e vi capisco benissimo gridò il notaio però dovreste riflettere che avete amici vecchi e pronti a sacrificarsi per voi via pensava intanto il vignerolo sarebbe ora che vi decideste se qualcuno andasse a parigi trovasse il maggior creditore di vostro fratello guillaume e gli dicesse un momento interroppe grande che potrebbe dirgli pre pre presa poco così il signor grande di so miur di qua il signor grande di so miur di là egli vol bene a suo fratello vol bene a suo nipote è un buon parente con ottime intenzioni e ha venduto bene il suo raccolto non dichiarate il fa alimento e adunatevi ossia nominate i liquidatori e allora grande verrà non avreste più vantaggio voi a liquidare che se la giustizia vi mettesse il naso non è vero proprio approvò il presidente perché il signor de bon bon fond bisogna pur riflettere prima di risolversi chi non può non può in ogni affare oneroso va conosciuto l'utile ed il peso se non ci si vuole rovinare non dico giusto sicuro ed io credo che in pochi mesi con una somma limitata si riescirà a riscattare tutte le cambiali e saldare il passivo con una transazione un pezzo di lardo mostrato ai cani li attira ben lontano chissà evitare la dichiarazione di fallimento e riprendere i titoli di credito ridiviene subito candido come la neve come la neve neve ripeteva grande con la mano all'orecchio non capisco questa neve e allora state a sentirmi vi vi ascolto un effetto cambiario è merce soggetta a rialzo ed a ribasso e questa una deduzione del principio di jeremy bentham sopra l'usura perché quel pubblicista ha provato a essere una vera sciocchezza il pregiudizio che colpisce di infami agli usurai oh disse il vecchio ritenuto secondo bentham il principio che il denaro è una merce e che merci è del pari di ciò che esso rappresenta ritenuto essere notorio che soggetta alle variazioni ordinarie che regolano le cose commerciali la merce cambiale portante questo a quella firma come il tale o il tal'altro articolo sovrabbonda o manca sulla piazza e cara o scende a vilissimo prezzo il tribunale ordina beh bestia che io sono scusate dicevo che potreste uscirvene col 25% voi lo chiamate Jeremy beh Bentham un inglese quel Jeremy ci dispenserà da molte lagnanze negli affari osservò ridendo il notaio hanno del buon buon senso tal tal volta gli inglesi quindi se secondo Bentham se gli effetti di mio fratello non valgono dico bene ciò mi parebbe chiaro i creditori sarebbero no non sarebbero mi capisco io vi spiego subito aggiunse il presidente in diritto quando avrete in mano i titoli di credito rilasciati dalla ditta grande vostro fratello i vostri eredi non saranno più debitori di alcuno Vi persuade? Bene, ripete il vecchio. Dal lato morale, poi, se le cambiali di vostro fratello si negoziano, capite la forza di questa parola, sulla piazza al tanto per cento di perdita, e un amico vostro là di passaggio le riscatta, siccome i creditori non furono costretti in alcun modo a cederle, così la successione del signor Gandè si trova lealmente sciolta da qualsiasi impegno. E' vero, gli affari sono gli affari, soggiunse il bottaio, ma tuttavia capirete che non mi mica facile per me, che non ho denaro né tempo né ho, non dovrete punto dissestarvi, vado io a Parigi e mi compenserete le spese di viaggio, una miseria, vedo i creditori, parlo, tratto e tutto s'acqua. Comoda con qualche piccola aggiunta ai valori della liquidazione, i titoli di credito diventano vostri. Ma vedremo, non posso impegnarmi senza chi, 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 non può, non può, capite? E' giusto, ho la testa rotta da quanto mi avete suggerito, è la prima volta che sono costretto a pensare. Già, non siete giure consulto voi? Io, io sono un po' povero vignarolo e me nuovo ha fatto quel che, che dite bisogna che lo, lo studi. Dunque, concluse il presidente, nipote, salto su il notaio con breve tono di rimprovero. Cosa zio, disse l'altro, lascia spiegare al signor Grandet le proprie intenzioni, si tratta di un incarico assai grave e il nostro caro amico ha ben diritto di provvedere opportuno. Il colpo di un battente che annunziò l'arrivo dei des grassins, il loro ingresso quasi immediato e i convenevoli d'uso troncarono la frase in bocca a Cruchot, che fu lieto della interruzione poiché già l'ex bottaio lo guardava di traverso lasciando intravedere un'interna tempesta. D'altra parte, al prudente notaio non pareva davvero ottima cosa che un presidente di tribunale si recasse a Parigi a persuadere dei creditori e tenesse mano a un imbroglio che occultava le leggi della stretta probità, ma soprattutto, non avendo il vecchio espresso fino allora la meno ma voglia di pagare, temeva che suo padre non finisse con l'andar male in tutta la faccenda. Profittò quindi del momento in cui entrarono i des grassins per trarre bon fond nel vano d'una finestra. Ti sei messo abbastanza in mostra, nipote, ma non spingere oltre il sacrificio e non taccechi il desiderio di aver la figlia. Diamine, non bisogna lanciarsi come una cornacchia che va a buttar giù delle noci. Lasciami guidare la barca e aiuta soltanto la manovra. Non è poi bene che tu comprometta la dignità di magistrato in una... E si fermò di botto nell'udire il signor de Grassin che diceva al bottaio tendendogli la mano. Grandè, c'è nota la orribile disgrazia che ha colpito la vostra famiglia, cioè la rovina della ditta Guillaume Grandè e la morte di vostro fratello ed eccoci ad esprimervi con quanta sincerità prendiamo parte alla sventura. L'unica disgrazia, interruppe il notaio, è la morte del signor Grandè Junior ed egli non si sarebbe ucciso se avesse pensato a ricorrere a suo fratello. Il vecchio amico nostro, infatti, che ha sentimento d'onore fin sulla punta delle unghie, liquiderà ora il passivo della ditta e il presidente, mio nipote, ad evitargli l'imbarazzo di lunghe pratiche giudiziarie, è pronto a recarsi immediatamente a Parigi per transigere con i creditori e soddisfarli in modo equo. Questa notizia, confermata dal silenzio del Vignerolo, che si carezzava il mento, fu una strana sorpresa per i de Grassin, i quali, lungo la via, avevano detto corna dell'avarizia di Grandè, accusandolo quasi di fratricidio. «Ah, me l'immaginavo!» esclamò il banchiere e volse uno sguardo alla propria moglie. «Cosa ti dicevo io nel venire, signora de Grassin? Grandè sente l'onore fin sulla punta dei capelli e non vorrà l'ombra di una macchia sul suo nome. Il denaro, senza l'onore, è una malattia e nelle province nostre di onore venà a Bizzeffe. Benissimo, benissimo, Grandè, da vecchio militare io non nascondo mai quel che penso e lo dico schietto, senza fronzoli per mille tuoni, ciò è sublime. «In tal casola su sublimità costa cara», osservò il vecchio mentre il banchiere scuoteva la mano calorosamente. «Però, mio ottimo Grandè, soggiunse de Grassin, mi sembra, senza far dispiacere al signor Presidente, che si tratti di un affare di commercio e che richieda meglio un esperto commerciante. Difatti occorrerà intendersi bene di conti di ritorno, di anticipazioni e computi di interesse. Debo recarmi appunto a Parigi per certe mie faccende e potrei io stesso incaricarmi. Sì, vedremo di provvedere per il meglio e senza impegnarmi in quello che non vorrei. Già che, vedete, il signor Presidente mi domandava naturalmente le spese di viaggio, rispose Grandè, senza balbutire alle ultime parole. «Oh!» disse la signora de Grassin, «ma se è un piacere fare una gita a Parigi, per me sarei pronta a pagare per andarci!» E accennò al marito come per spingerlo a soppiantare in quell'incarico gli avversari a qualunque costo. Poi rivolse uno sguardo ironico ai due Couchot che presero un'aria triste. Grandè, frattanto, tirava in un angolo il banchiere per un bottone del soprabito. «Avrei più fiducia in voi che nel Presidente», gli disse. «E poi ho altro qui in testa. Pensavo di far qualche operazione sulla rendita pubblica. Un acquisto di qualche migliaio di lire, ma non più di 80 franchi. Mi dicono che ci sia ribasso per fine mese. Voi ve ne intendetene, vero?» «Perbacco! Dovrò comprarvi qualche migliaio di lire di rendita?» Una sciocchezza per cominciare. «Motus, voglio tentare questo giuoco senza conoscerlo. Combinatemi perciò un contratto per la fine del mese e non dite nulla ai Couchot affinché non se l'abbiano a male. Già che poi andate a Parigi, vedremo anche per il mio povero nipote se vi son buone carte da sfogliare. Resta inteso. «E domani parto con la posta», disse Forte de Grasset. «Verrò a prendere le ultime istruzioni. E... a che ora?» «Ale cinque, prima di pranzo», rispose il vignerolo fregandosi le mani. Gli avversari si trovarono ancora di fronte per alcuni minuti, indi il banchiere batte sulla spalla del vecchio dicendo «È una gran bella cosa aver parenti come questi». «Sì, sì, senza che lo sembri», confermò l'ex bottaio. «Sono un buon pa-pa-parente, volevo bene a mio fratello e si vedrà alla prova se... se... se non mi costa...» «Noi vi lasciamo grande», disse il banchiere, interrompendolo fortunatamente a tempo, «poiché, se ho da partire un po' prima di quel che pensavo, bisognerà che metta in ordine qualche affare». «Bene, bene. Anch'io, per quanto sapete, voglio ritirarmi nella mia camera di consiglio, come direbbe il presidente Cruchot. Maledizione. Ecco che non sono più il signor de Beaufort», pensava con tristezza il magistrato cui apparve in viso quel senso di noia che dà al giudice una ringa troppo diluita. Le due famiglie rivali uscirono insieme senza pensare più al tradimento di Grandè verso il ceto dei proprietari di vigne e si scandagliarono a vicenda, ma in vano per conoscere ciò che pensavano sulle vere intenzioni del buon uomo in quel nuovo affare. «Venite con noi della signora d'Orsonval», chiese de Grasset al notaio. «Ci veremo più tardi», rispose il presidente. «Se non dispiace, qui allo zio andremo prima dalla signorina di Gribocourt. Le ho promesso di passare da lei un momento ad augurarle la buona sera». «Arivederci dunque, signori», disse de Grasset, e quando i Cruchot ebbero fatti alcuni passi, Adolphe si rivolse al padre. «Masticano amaro, eh?» «Zitto un po', gli replicò la madre. Potrebbero udirci. E poi non è di buon gusto quello che dici. Sa di scuola di diritto». «Hai visto, zio?» esclamò il magistrato, non appena i de Grasset furono lontani. «Ho cominciato con l'essere il presidente de Buffon e ho finito col rimanere un Cruchot puro e semplice. Mi sono accorto che non ti andava genio, ma l'aria aspirava favorevole ai de Grasset. Del resto, mi pare che il tuo spirito dovrebbe farsi più accorto. Lascia che si imbarchino loro su un «vedremo» di Papà Grandè e sta certo, carino, che questo non ti toglierà Eugénie. In pochi minuti la novità della magnanima risoluzione di Grandè si sparse contemporaneamente in tre case e in breve per tutta la città si parlò solo del suo affetto fraterno. L'ammirazione per quella generosità inaspettata e per quel vivo sentimento d'onore distrusse l'ira scaturita in seguito alla famosa vendita, poiché è nell'indole dei francesi entusiasmarsi, andare in collera e appassionarsi per la meteora del momento, per le bandiere dell'attualità. Forse gli esseri collettivi, i popoli, non hanno memoria. Quando Papà Grandè ebbe chiusa la porta, chiamò Nanon. «Non sciogliere il cane e non metterti a letto. Dobbiamo lavorare insieme. Alle undici sarà giù Cournoyer con la carrozza di Fouafon. Sta' attenta quando viene ad aprirgli senza farlo picchiare, poi conducilo dentro pian piano. Le leggi di pubblica sicurezza vietano lo strepito di notte ed in ogni caso non c'è bisogno di far sapere che parto. Ciò detto, salì nel suo laboratorio e la domestica lo udì un pezzo girarla dentro, frugare e muovere oggetti con la massima precauzione. Era chiaro che egli non voleva destare la moglie e la figliuola e che temeva specialmente di dar sospetti al nipote, cui aveva già scagliato una maledizione scorgendo della luce nella sua camera. A notte fonda, Eugénie, sempre in orgasmo per il cugino, credette di udir la voce di un morente e le parve che fosse quella di Charles. L'aveva lasciato così pallido e oppresso, se si fosse ucciso. D'un tratto fu in piedi, si avvolse in una specie di accappatoio e mosse per uscire. Una viva striscia di luce che filtrava per le fessure dell'uscio le diede sulle prime l'idea di un incendio, ma la rassicurarono subito il passo grave della domestica e la voce di lei unita al nitrito di parecchi cavalli. Che il babbo porti via il cugino, pensò ella, aprendo per metà la porta della stanza, con la massima cautela per evitare che stridesse, ma in modo da scorgere quanto avveniva nel corridoio. D'un tratto vide il padre, il cui sguardo, benché vago ed incurante, le fece correre per le vene un brivido di terrore. Egli e Nanon sostenevano sulle spalle l'estremità di un grosso randello, cui, mediante una corda, era sospeso un barilotto di quelli che Grandè usava costruire nelle ore d'ozio. Santa Vergine, signore, come pesa, mormorò la domestica. Peccato che siano soltanto pezzi di rame, rispose il padrone. Vada a non urtare il candeliere. Fra due ferri della rampa ardeva una candela. Cornuaiè, disse Lavaro al suo guardiano in partibus, hai le pistole? No, signore, ma che vada a temere se si tratta di soldoni? Oh, nulla. D'altra parte, viaggeremo in fretta, giacché i fittavoli hanno scelto per voi i migliori cavalli che avevano. Va bene, tu non avrai detto loro dove andavo. Se non lo sapevo nemmeno. Bene, è solida la vettura? Questa padrone ne porterebbe delle migliaia, ma quanto diavolo pesano i vostri maledetti barili? Vedrai, disse la donna. Per me, lo so già, ve ne saranno mille e ottocento. Vuoi star zitta, Nanon? Di a mia moglie che sono andato in campagna e che torno per l'ora di pranzo. Avanti, Cornuaiè, di buon trotto, bisogna che mi arrivi ad Angers prima delle nove. Dopo che la carrozza fu sparita, Nanon tirò i chiavistelli del portone, sguinzagliò il cane e andò a letto con la spalla fiaccata, mentre la partenza di Grandè e lo scopo del suo viaggio rimanevano affatto ignorati nel quartiere. Non vi era uomo più cauto di lui e nessuno poteva dire d'aver visto un soldo in quella casa piena d'oro. Da alcune charle nel porto, egli aveva saputo la mattina che il prezzo dell'oro raddoppiava per certi armamenti intrapresi a Nantes e che ad Angers verano già degli incettatori. Allora il vecchio agricoltore, facendosi semplicemente prestare i cavalli dai suoi fittavoli, fu in grado di recarsi a vendere il suo e ritirarne in buoni dal ricevitore generale sul tesoro la somma necessaria all'acquisto della rendita, oltre l'aggio relativo. «È il babbo che parte!» disse la fanciulla dopo aver ascoltato. Nella casa di nuovo gravava il silenzio e il lontano rotolio della vettura si perdeva man mano attraverso le vie di Sommiur addormentata. In quel punto, dalla camera del cugino, le giunse all'orecchio un lamento che le si ripercosse nel cuore. Per la fessura dell'uscio vide allungarsi una striscia luminosa sottile come il filo d'una sciabola che tagliava orizzontalmente i balaustri del vecchio scalone. «Egli soffre!» mormorò salendo due gradini. Un altro gemito si udì sul pianerottolo. Trovò la porta socchiusa e la spinse. Col capo penzoloni fuor dalla vecchia poltrona, Charles dormiva e la penna gli era caduta dalla mano che sfiorava il pavimento. Eugénie, al respiro grave del giovane in quella incomoda posizione, si spaventò ed entrò. «Oh, sarà molto stanco!» pensava nel guardare una decina di lettere sigillate di cui lesse gli indirizzi. «Ai signori Farry, Brainman, Cite, i fabbricanti di carrozze. Al signor Buisson, Sarto, ha voluto mettere in ordine le cose sue per essere pronto a lasciare la Francia» e la pensò. D'un tratto le cadde lo sguardo su due lettere aperte ed ebbe come una vertigine nel leggere le prime parole. «Mia cara Annette». Il suo cuore palpitò. I piedi le si inchiodarono sul pavimento. «La sua cara Annette». Ma dunque amava ed era corrisposto. Ed in tal caso, addio speranze, addio illusioni. Quanti pensieri si affollarono in tumulto nel suo cervello. E come le parve che quelle tre parole risplendessero in lettere di fuoco da ogni lato, persino sui quadrati del pavimento. «Aimè, bisognava già rinunziare a lui. Ed ella sarebbe andata via senza leggere quella lettera. Ma se avesse visto di che si trattava?» Guardò Charles e pian pianino gli guidò la testa fin sulla spalla del seggiolone. né egli se ne accorse menomamente come un fanciullo che anche nel sonno intuisce il materno affetto e ne riceve senza destarsi cure e baci. E' simile a una madre. Ella gli sfiorò con le labbra e i capelli mentre la voce di un demonio le ripeteva negli orecchi le parole «Cara Annette». «So di far male», si disse. «Pure voglio leggere questa lettera». La innata probità si ribellava facendole stornare gli occhi dalla tentazione e per la prima volta sentiva di arrossire in quell'urto fra il bene e il male in fondo al cuore ma vinsero la curiosità e la passione. Ad ogni frase il suo cuore si gonfiava mentre una fiamma ignota la invadeva. Più squisite le apparivano alla fantasia le gioie del primo amore. «Mia cara Annette». Nulla ci avrebbe divisi se non fosse piombata fra noi la disgrazia che mi opprime imprevedibile da qualunque saggezza umana. Mio padre si è ucciso ed ogni nostra fortuna è perduta. Mi trovo orfano quando per l'educazione ricevuta posso ancora chiamarmi fanciullo. Eppure occorre che esca uomo dall'abisso nel quale sono precipitato. Ho passato gran parte della notte a fare i miei conti ed ho visto che volendo come mi propongo lasciare la Francia senza macchia. non mi rimangono cento lire per recarmi a tentare la sorte nelle Indie o in America. Sì, povera Ann mia, andrò proprio in quei climi micidiali dove mi hanno detto che la ricchezza è rapida e sicura. A Parigi non saprei restarmene davvero. Non ho anima né viso disposto a sopportare gli affronti. La freddezza, il disprezzo cui va incontro il figlio del fallito, Dio buono, essere debitore di due milioni, mi ucciderebbero in duello entro la prima settimana. Perciò non mi farò vedere mai più. Nemmeno l'amore per te, così tenero e devoto, potrebbe indurmi al ritorno, anche perché, o diletta, mi mancano i mezzi per venire ove tu sei ad attingere in ultimo bacio la forza necessaria alla mia impresa. Povero Charles, ho fatto bene a leggere, esclamò Eugénie. Io ho dell'oro e glielo darò. E asciugatesi le lacrime riprese la lettura. Non mi era capitato di riflettere sulle disgrazie della miseria. Quando, pur mi riesca di mettere assieme i cento Luigi indispensabili per il viaggio, non avrò tuttavia un soldo per farmi un bagaglio qualunque. Ma no, io non avrò né cento Luigi né uno, perché solo dopo regolati debiti potrò conoscere lo stato della mia fortuna. Se non mi avanzerà nulla, mi imbarcherò come semplice marinaio a Nantes, cominciando allo stesso modo di tanti giovani pieni di energia che partirono poveri e tornarono ricchi dalle Indie. Da stamani guardo freddamente in faccia all'avvenire e mi accorgo che è più orribile per me che per qualunque altro. Per me, carezzato da una madre che mi adorava prediletto dal più buono dei padri, per me che al primo apparire del mondo ho trovato l'amore di una donna quale sei tu. Oh, sì, ho conosciuto della vita soltanto i fiori e la gran felicità non poteva durare, ma pure, oh Annette mia, sento più coraggio di quanto per solito si debba supporre in un giovanotto incurante, avvezzo alle moine della più soave donna di Parigi, cullato fra le gioie della famiglia e le affettuose condiscendenze del padre. Oh, il babbo Annette, il babbo è morto. Ebbene, io ho riflettuto sulla mia posizione e sulla tua. Sono invecchiato assai in ventiquattro ore. Nemmeno la tua rinunzia a tutti i piaceri del lusso, allo splendore delle toilette, al palco dell'opera, potrebbe lasciarmi tanto da sopperire alle spese necessarie per la mia vita dissoluta ed io, d'altra parte, non accetterei mai un tale sacrificio e quindi bene che ci lasciamo oggi per sempre. Oh, Vergine Santa, la lascia, che gioia! Al brusco moto della fanciulla, Charles si mosse. Ella si agghiacciò di paura, ma fortunatamente il giovane non si svegliò ed Eugénie riprese. Ignoro quando mi sarà dato di tornare. Sotto il cielo delle Indie, l'Europeo invecchia presto, specialmente se lavora. Poniamo che io rimpatri fra dieci anni, tua figlia allora ne avrà diciotto e ti sarà compagna e guardia. Dal mondo non potrai sperare bene e forse neppure da lei già che troppi sono gli esempi dei giudizi mondani e della gratitudine delle ragazze. Profittiamone dunque in tempo. Serba in fondo all'anima, come io farò dal canto mio, il ricordo dei quattro felici anni trascorsi e se puoi resta fedele al povero amico tuo. Non lo pretendo perché mi trovo ormai ridotto a considerare la vita con l'occhio del borghese e calcolarla in cifre e quindi a pensare al matrimonio. Assoluta necessità per il futuro e ti confesso che qui a Somur da mio zio ve una cugina della quale non ti spiacerebbero i modi, l'aspetto, lo spirito ed il cuore senza contare che la mi sembra abbia doveva sentirsi davvero molto stanco per aver cessato di scriverle pensò Eugenie. Lo giustificava, non era possibile che quella innocente fanciulla si accorgesse della freddezza di quella lettera. Per le fanciulle educate nei sentimenti religiosi, ignoranti eppure tutto è amore dal giorno che si affacciano nelle regioni incantate dell'amore e vi procedono risolute e circonfuse da una luce eterea che si riflette sulla persona amata a cui prestano il fuoco dell'intimo sentimento e la bellezza del proprio pensiero. Quasi sempre gli errori di una donna derivano dalla sua fede nel bene o nel vero. Le parole mia cara Annette mia dilettissima le risuonavano in cuore come il più bel linguaggio d'amore e le carezzavano l'anima come nell'infanzia le note divine del venite ad oremus ripetute dall'organo le carezzavano l'orecchio. Le stesse lacrime di Charles erano per lei un mezzo potente di seduzione poiché e la ignorava come il suo affanno provenisse più dal ricordo della bontà del padre che dall'intima tenerezza del cuore. Soddisfacendo ogni capriccio del figlio circondandolo di lusso e di piacere Guillaume Grande e sua moglie avevano unicamente impedito che egli si abbandonasse ai calcoli orribili di cui è preda la massima parte dei giovani a Parigi allorché vedono dai parenti ritardati i disegni e le ispirazioni febbrili al godimento. Alla prodigalità paterna quindi rispondeva in lui un affetto vero e senza secondi fini ma Charles in fondo era pur figlio della capitale dedito ai suoi costumi avvezzo da Annette a basar tutto sull'egoismo e poteva considerarsi un vecchio sotto la maschera del giovane l'educazione sua era la triste educazione di una società la quale in una serata sola è capace di commettere con pensieri e parole più delitti che non ne puniscano le corti d'assise una società in cui i motti di spirito ammazzano le idee più nobili e non si è stimati forti se non si dimostra l'occhio pratico della vita ossia se non si è scettici di tutto dei sentimenti degli uomini e anche di quel che accade persino i fatti si inventano l'occhio pratico poi consiste nel pesare ogni mattina la borsa dell'amico nel sapersi mantenere politicamente al di sopra delle circostanze nel non ammirare mai nulla né opere d'arte né azioni generose e nel porre a base dell'esistenza l'interesse personale dopo mille pazzie la grandama la bella Annette richiamava a Charles ai pensieri seri e gli discorreva la posizione futura lisciandogli i capelli con la mano profumata gli consigliava il calcolo nella vita accomodando un ricciolo gli infondeva qualcosa di femmineo e di materiale doppia corruzione elegante fine di buon gusto voi siete ingenuo Charles gli diceva e prevedo che mi ci vorrà fatica a insegnarvi il vivere del mondo per esempio non vi comportate bene riguardo al signor degli Paul comprendo anch'io che è persona poco stimabile ma aspettate che perda il portafoglio per disprezzarlo a vostro bellaggio sapete cosa ci dicava la signora Campan figlie mie finché un uomo è al ministero adoratelo e non appena caduto date mano a trascinarlo in basso al potere egli è una specie di dio fuori di quello e al di sotto dimarrà nella fogna poiché marà vi fu gettato a cadavere ed egli vi scende vivo l'esistenza sociale è tutto un seguito di combinazioni e occorre studiarle e seguirle accuratamente se si vuol rimanere sempre in alto il giovane viveva troppo alla moda ed era troppo adulato dai genitori e dagli altri perché potesse accogliere una nobiltà di sentimenti ed anche il granello d'oro seminato gli nel cuore da sua madre era passato per la trafila parigina ma egli aveva appena appena ventun'anno e da quell'età si accompagnavano freschezza di vita e candore d'anima voce sguardo e sembianze paiano armonizzare con i sentimenti e persino il giudice più severo il più incredulo avvocato l'usuraio meno facile a commuoversi stentano a credere nella vecchiezza del cuore e nella corruzione calcolatrice quando gli occhi hanno la limpidezza di un fluido purissimo e non si trovano rughe sulla fronte Charles non si era mai trovato nel caso di mettere in pratica la morale parigina e fino a quel momento poteva essere giudicato quasi ingenuo ma incosciente l'egoismo gli si era infiltrato il sangue e quando da spettatore ozioso diveniva attore nel dramma della realtà i germi di economia politica ad uso della capitale già latenti in lui si apprestavano al rigoglio della fioritura quasi tutte le ragazze cedono alle dolci lusinghe di tali esteriorità e non era certo supponibile in eugenie un intuito speciale di investigazione per cui fosse indotta a diffidare del cugino quando in lui i modi le parole le azioni si accordavano anche con le aspirazioni del cuore e un caso fatale per lei la mise di fronte proprio alle ultime effusioni di sensibilità vera di quell'anima agli estremi aneliti di quella coscienza lasciò la lettera in cui aveva scorto tanta luce d'amore e rimase lieta a contemplare il cugino addormentato giurando entro di sé di amarlo sempre poi prese l'altro foglio e cominciò a leggerlo non per indiscrezione ma per scoprirvi nuove prove delle doti eccezionali che simile in ciò a tutte le donne prestava a colui che ormai predilegeva mio caro Alfons quando leggerai questa lettera per me non vi saranno più amici ma se io ho dubitato di tanti che prodigano facilmente la dolce parola ho avuto invece ferma fiducia nell'amicizia tua perciò ti incarico di regolare i miei affari sicuro che procurerai di trarre il miglior vantaggio da quel che possiedo ti dico che nulla più mi rimane e che ho intenzione di partire per le indie e quindi ho scritto a coloro cui debbo del denaro e ne accudo qui la lista esatta per quanto la memoria me lo consente credo sufficiente a saldare i miei debiti il ricavato della biblioteca dei mobili delle carrozze dei cavalli eccetera e intendo riservarmi i pochi ninnoli di nessun valore che resteranno ti manderò una procura in regola per la vendita e tu mi spedirai le mie armi serbando per te briton nessuno forse pagherebbe il giusto prezzo di quel mirabile animale e preferisco perciò donartelo come l'anello che un morente lega di solito al suo esecutore testamentario i signori farri brailman eccetera hanno costruito per me una comodissima carrozza da viaggio ma non l'hanno ancora consegnata e ti prego di persuaderli a tenersela senza chiedere alcun indennizzo se si rifiutassero cerca ogni mezzo per evitare che si dubiti della mia lealtà l'isolano mi ha vinto al gioco sei luigi e non dimenticare di caro cugino esclamò la giovinetta smettendo di leggere e tornando pian piano in camera sua con una delle candele accese con viva e piacevole emozione e la tirò il cassetto di un antico mobile di quercia opera stupenda dell'epoca del rinascimento su cui appariva scolpita e mezzo logora la famosa salamandra reale e ne trasse un'ampia borsa di velluto rosso a ghiande d'oro con guarnizioni di vecchia catiglia ereditata dalla nonna la pesò con orgoglio e si diede a fare il conto del suo piccolo peculio mise da parte innanzitutto venti portoghesi ancora nuovi battuti sotto il regno di Giovanni V nel 1725 del valore reale secondo il padre di 168 franchi e 64 centesimi ciascuno ma quotabili commercialmente a 180 franchi per la rarità e la bellezza delle monete che rifulgevano come soli idem 5 genovine o pezzi da pentolire dello stato di Genova provenienti dal vecchio signor la bertelier moneta rara anch'essa del valore di 87 franchi al cambio ma pagata dagli amatori fino a 100 idem tre quadruple d'oro spagnuole del tempo di Filippo V 1729 avute dalla signora gentillè che nel darla pronunziava sempre questo bel canarino questo piccolo occhio giallo vale 90 franchi serbatelo piccina e sarà il fiore del vostro tesoro idem 100 ducati di Olanda del 1756 quelli che il padre maggiormente apprezzava perché l'oro aveva il titolo di oltre 23 carati ed il valore era di quasi 13 lire idem medaglie preziose per gli avari una rarità cioè 3 rupie col segno della bilancia e 5 con quello della vergine tutte d'oro a 24 carati moneta magnifica del grammo gol quotata a 37 franchi al peso ma a 50 e più per i conoscitori idem il napoleone di 40 lire avuto due sere innanzi e gettato pure nella borsa rossa verano in quel tesoro monete nuove e vergini vere opere d'arte di cui grande si informava e che chiedeva gli mostrassero spiegandone minutamente alla figliuola le qualità intrinseche come la bellezza della filettatura la chiarezza del disco la precisione della leggenda ma ella non pensava a questo né alla mania del padre né al pericolo cui sarebbe andata incontro col disfarsi del geloso tesoro no pensava invece al cugino e con alcuni calcoli laboriosi giunse finalmente a capire come ella possedesse circa 5.800 franchi di valore esecutivo che in commercio avrebbe potuto fruttare quasi 2.000 scudi alla vista delle sue ricchezze fu assalita da un impeto di gioia fanciullesca e non seppe trattenersi dal battere le mani in tal modo padre e figlia avevano verificato il proprio oro l'uno per venderlo l'altra per abbandonarlo alla improvvisa onda di affetto che l'invadeva rimise quindi nella borsa il denaro la prese e risali senza esitare dimentica dell'ora notturna delle convenienze forte del sentimento nobilissimo dell'anima sua quando apparve sull'uscio con la candela in mano Charles si destò sorpreso ma la ragazza con voce un po' ingenua gli disse subito cugino devo chiedervi perdono ad una grave colpa che ho verso di voi ed anche dio mi perdonerà ma cos'è mai chiese il giovane estropicciato sugli occhi ho letto quelle due lettere Charles arrossì com'è successo riprese lei perché son salita fin qui a dir vero non lo so nemmeno io ma in fondo non credo di aver fatto male a leggere quei fogli perché così ho conosciuto il cuore vostro l'anima e e cosa interruppe Charles i disegni che vi proponete l'assoluto bisogno di una somma cugina cara zitto zitto parlate più piano non destiamo nessuno ecco le economie di una povera ragazza a cui non manca nulla accettatele Charles stamane io non sapevo che fosse il denaro lo ha imparato da voi un cugino è come un fratello quindi prendete senz'altro in prestito da vostra sorella ciò che vi occorre e gli tacque nella semplice inesperienza di fanciulla Eugénie non aveva previsto il caso di un rifiuto e si trovò confusa dal silenzio del cugino che vorreste forse rifiutare chiese con un palpito così forte che lo si udiva per la stanza in quello slancio di voler porgergli aiuto ad ogni costo gli si inginocchiò davanti io non mi levo finché non avrete accettato questo oro una risposta cugino vi prego ditemi se sia generoso se mi fate l'onore se a quel grido di santa preghiera il giovane sentì le sue lacrime scorrere sulle mani della cugina che gli aveva stretto per impedirle di inginocchiarsi e là levatasi d'un tratto afferrò la borsa versandone sulla tavola il contenuto sì non è vero diceva piangendo dalla gioia non abbiate timore arricchirete e questo denaro vi porterà fortuna potrete allora restituirmelo e saremo soci insomma accetterò le condizioni che vi pareranno convenienti ma ad un patto che non facciate troppo conto del mio tenue dono Charles può finalmente esprimere i suoi sentimenti sì e genie dimostrerei animo assai mischino se non accettassi ma niente per niente confidenza per confidenza che volete chiese ella spaventata sentite là ed accennò sul cassettone una scatola quadrata in una busta di cuoio là io serbo cosa a me cara quanto la vita perché è un ricordo di mia madre pensavo stamattina che se ella potesse uscire dalla tomba correrebbe di persona a vedere l'oro di cui per me ha prodicalmente ornato quel gingillo ma se lo facessi io mi parebbe di commettere un sacrilegio a quelle parole la fanciulla rispose con una stretta di mano quasi convulsa e tutti e due si fissarono per alcuni minuti con gli occhi umidi e gli continuò non voglio distruggerlo né rischiarlo in viaggio e l'affido a voi e genie come il deposito più sacro che mai amico abbia confidato ad amico trasse la scatola dalla busta la perse e alla cugina stupita mostrò oggetti di toletta d'oro che l'artistico cesello rendeva di pregio elevatissimo ma quel che ammirate soggiunse nel far scattare la molla di un doppio fondo è nulla di fronte a ciò che per me vale tutta la terra e trasse fuori due ritratti due capolavori della signora de mirbel con ricca cornice di perle splendida figura è forse la dama a cui scrive no è mia madre ed ecco il babbo cioè i vostri zii ora dovrei supplicarvi in ginocchio di custodirmi questo tesoro e se mai scomparissi perdendo il vostro compensatevi con il valore di questi oggetti e serbate i ritratti a voi sola io sento di poterli affidare e voi sola siete degna di averli ma poi distruggeteli per impedire che passino ad altri sì non è vero nell'udir queste parole e geni rivolse al cugino il primo sguardo di donna innamorata sguardo lo zinghiero e profondo e gli le baciò la mano commosso angelo di purezza nessun ostacolo fra noi porrà mai il denaro il sentimento è tutto somigliate proprio a vostra madre aveva la voce dolce come la vostra oh più soave più soave assai sì per voi mormorò illa abbassando gli occhi ora charles voglio che vi corichiate sarete stanco certamente a domani e geni sciolse a poco a poco la mano da quella del giovane charles la seguì con lume fin presso l'uscio della soglia di lei e quando entrambi furono sulla soglia egli sospirò perché sono rovinato che importa il babbo è ricco a quel che credo e la rispose povera fanciulla soggiunse charles con un piede nella stanza e le spalle poggiate allo stipite se così fosse non avrebbe lasciato morire mio padre non vi terrebbe in questa nudità e vivrebbe diversamente possiede froidfond e cosa vale froidfond non saprei del resto anche noia qualche fattoria di infimordine aprati vigneti miserie concluse il giovane con aria sprezzante se il babbo vostro disponesse appena di 24.000 lire di rendita avreste questa camera fredda e nuda e alzò il piede sinistro indicando il vecchio forziere come per nascondere quel che pensava la saranno conservati i miei tesori non è vero andate a letto disse la ragazza impedendogli di entrare nella stanza in disordine charles uscì nel corridoio e un sorriso scambievole fu il loro saluto ambe due si addormentarono in braccio al medesimo sogno e il figlio sventurato sentì allora qualche sollievo al suo dolore la mattina seguente quando la signora grande scese prima di colazione vide sua figlia passeggiare col cugino egli era ancora triste per la disgrazia terribile che gli gettava addosso improvvisamente il peso dell'avvenire il babbo sarà qui soltanto all'ora di pranzo osservò la fanciulla per dissipare il senso di inquietudine cosparso in viso alla madre dai modi e dall'aspetto di Eugénie come dalla suavità speciale della sua voce era facile intuire quale segreta corrispondenza di pensieri o di sentimenti accendesse le loro anime inconsce e fiduciose il giovane rimase in sala e nessuno turbò il suo mesto silenzio tanto più che le tre donne ebbero un grande affare per rispondere alla gente che veniva in cerca di grandè il conciatetti lo stagnino il muratore i terrazzieri il falegname gli ortolani e i fittavoli i primi a concludere contratti di riparazione gli altri a pagare conti o a ricevere denaro le derrate erano riscosse in cucina dalla domestica la quale poi sollecitava gli ordini del padrone per sapere ciò che si doveva mandare al mercato e ciò che si sarebbe dovuto tenere per la casa giacché il bottaio come la massima parte dei proprietari campagnoli usava bere il vino cattivo e mangiare le frutta peggiori egli tornò d'Angers verso le 5 di sera dopo aver guadagnato 14.000 franchi sull'oro e chiuso nel portafogli dei buoni dello stato fruttiferi fino al giorno in cui avrebbe dovuto pagare le rendite cornoyer era rimasto ad Angers per curarvi i cavalli in mezzo rattrappiti e ricondurli a piccole tappe non appena fossero riposati vengo d'Angers moglie mia ed ho fame disse entrando la domestica gli gridò dalla cucina non avete mangiato nulla da ieri nulla rispose il padrone fu servita la zuppa e de grassin si presentò per le ultime istruzioni del suo cliente mentre la famiglia era a tavola il vecchio non aveva nemmeno badato al nipote state comodo grandè disse il banchiere parleremo un po' sapete quanto vale l'oro ad Angers dove se ne incetta per Nantes voglio spedirne risparmiatevi il fastidio rispose grandè ve ne è già abbastanza e per la nostra buona amicizia vi consiglio di non perdere tempo ma se vale tredici franchi e cinquanta dite meglio valeva e di dove diamine sarà venuto sono andato io stanotte ad Angers gli sussurrò il vignerolo il banchiere ebbe uno scatto di sorpresa quindi fra il buon uomo e lui impegnò un discorso all'orecchio durante il quale volgevano spesso lo sguardo verso Charles e quando l'ex bottaio finì col dare al banchiere l'incarico di comprargli centomila lire di rendita de grassin non potrei trattenere un gesto di alta meraviglia signor grandè disse poi a Charles io vado a Parigi e se aveste commissioni grazie signore nessuna rispose il giovane ringraziatelo un po' meglio nipote si reca alla capitale per regolar gli affari della ditta Guillaume Grandè ve ancora qualche speranza? o che non siete mio nipote gridò il bottaio con tono d'orgoglio abilmente affettato non ci appartiene anche il vostro onore? non vi chiamate forse Grandè? Charles fu in piedi d'un balzo abbracciò lo zio lo baciò impallidì ed uscì mentre Eugénie contemplava il padre con ammirazione dunque arrivederci mio buon de Grasse e cercate di trarre bene nella rete quei signori i due diplomatici si strinsero la mano e il vecchio accompagnò il banchiere fino all'uscio che chiuse accuratamente e nel rientrare si gettò sulla poltrona dicendo a Nanon dammi un po' di liquore ma non sepe star fermo per l'interna emozione e fissando il ritratto del signor Labertelier si alzò subito mettendosi a cantare facendo qualche passetto nelle guardie francesi avevo un buon papà la domestica Eugénie e la madre si guardarono mute l'allegria troppo spinta del vignerolo faceva loro sempre paura ma presto la serata fu chiusa papà Grandè disse di voler andare a letto prima del solito e quando si coricava lui tutto doveva dormire in casa allo stesso modo come la Polonia intera doveva essere ubriaca quando Augusto beveva d'altra parte Nanon Charles ed Eugénie si sentivano stanchi come il padrone e la signora Grandè dormiva mangiava beveva e camminava secondo gli ordini del marito tuttavia nelle due ore stabilite per la digestione il bottaio straordinariamente faceto lanciò diversi aforismi suoi speciali e ne basterea uno per dare la misura del suo spirito quando ebbe inghiottito il liquore guardò il bicchiere non si finisce d'accostare le labbra un bicchiere che è già vuoto ecco la storia nostra non è lecito essere ed essere stato né gli scudi possono correre e rimanere nella borsa altrimenti la vita sarebbe troppo bella fu anche gioviale e clemente verso Nanon quando ella si presentò con la canapa tanto da dirle sarai stanca tu pure credo io lascia andare la canapa non importa mi annoierei a far nulla rispose la donna povera Nanon vuoi un po' di liquore ah per liquore non dico di no la signora lo fa meglio di tutti gli spezzali quello che vendono pare una medicina vi mettono troppo zucchero e il sapore va via osservò Grandè il giorno seguente per la prima volta sebbe l'esempio di una intimità vera in quella famiglia raccolta verso le otto a colazione perché la sventura aveva subito accomunato la signora Grandè Eugénie e Charles e la stessa Nanon si sentiva inconsciamente attratta a simpatizzare con loro in quanto al vecchio Vignarolo reso più trattabile dall'avarizia soddisfatta e dalla certezza che il damerino era prossimo a partire senza costargli altro fuori del viaggio da Somyrannont non si curò più della sua presenza e lasciò che i due ragazzi come chiamava la figlia del nipote se la passassero a modo loro sotto l'occhio vigile di sua moglie in cui ciecamente confidava per ciò che fosse salvaguardia della moralità pubblica e religiosa si occupò quindi solo dell'allineamento dei suoi prati e dei fossi di scolo lungo la via delle piantagioni di pioppi presso la loira e dei lavori d'inverno negli orti o a froffon grazie a tutti